Cari lettori e lettrici, la novità letteraria che sto per presentare è un romanzo di narrativa contemporanea in cui il protagonista è costretto a tornare in Italia a causa dell'innalzamento del livello del mare che ha sediato le terre e portato alla chiusura delle frontiere da parte degli stati. Il libro ha la capacità di far riflettere sulle conseguenze reali del cambiamento climatico, mettendo in luce le drammatiche trasformazioni sociali, economiche e politiche che possono derivarne. La narrazione esplora anche le dinamiche umane di amore, amicizie e paura in un contesto così estremo, mostrando come la sopravvivenza e la protezione delle vite umane rimangano priorità anche in circostanze disperate. La trama del libro «La culla sull'abisso» della scrittrice Maria Sardella, pubblicato dalla casa editrice Trans Europa, è la seguente. L'innalzamento delle acque assedia le terre, gli stati chiudono le frontiere ed espellano tutti gli stranieri. Carlo è costretto a tornare in Italia, la vita del suo paese è trasformata, si vive difesi e nello stesso tempo assediati dalla linea che sevarà la terra dal mare, un incubo costante. Resisterà la linea alla spinta delle acque? In un contesto di cecità e disperazione, Carlo conosce Ziza, si innamora della ragazza e si imbatte in un bambino che chiede aiuto. Amore e amicizia sono messi in ombra dalla paura, dal sospetto. Carlo e suo padre tornano alle vecchie contrapposizioni, alle eliti aspre, ai dissapori. La salvezza di Martino è il compito che Carlo assume su di sé, pronta a fare il padre, convinto che la vita va protetta e salvaguardata fin tanto che dura. Grazie per l'attenzione e buona lettura. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi della trama del libro presentato. Se hai voglia di condividere il tuo pensiero, lasciami un messaggio. Celebra la magia della lettura condividendo questo video e aiutami per favore a diffondere l'amore per i libri. A te non costa nulla, per me sarebbe un bel gesto di gratitudine. Ricorda, ogni piccolo gesto può fare la differenza. Per non perdere le novità letterarie iscriviti al canale.